Questa settimana arrivano piogge temporali in Campania con l'abbassamento delle temperature di circa 3 gradi. Il maltempo si abbatterà sulla regione meridionale fino a giovedì, ma nel weekend dovrebbe tornare il sole con un nuovo aumento delle temperature di circa 2 gradi. Le prime gocce di pioggia su Napoli si sono viste già questa mattina, lunedì 28 agosto, ma le condizioni meteorologiche dovrebbero peggiorare a partire da domani, con lo spostamento dell'ondata del maltempo dal nord Italia verso il centro-sud. Si prevedono temporali improvvisi ed intensi, anche con grandine e fulmini, vento forte con raffiche e mare agitato. Si prevedono anche venti localmente forti, con possibili raffiche e mare tendentemente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sono possibili conseguenze al suolo, come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, riuscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. In considerazione della possibile grandine e della presenza di vento localmente forte, si raccomanda la massima attenzione ad assicurare la corretta tenuta delle strutture e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Grazie. 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 Grazie.